Musica 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 All'inferno Musica 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 Ok. Hai la voa. A terra! A terra! Oh, il bimbo alla voa! Oh, c'est bon! Oh, c'est bon! Oh, c'est bon! Ouh, c'est bon! C'est bon! Sì. Eh qui! Oh! Sì! Sì! Oh no! Tutto ok, siamo qui. Avevi ragione. Su cosa? Tutto quello che tocchi va a puttane. Ok dai, ti portiamo fuori di qui. No! Che facciamo? Hai trovato la mia spedizione? Sì, l'ho trovata. Capisci cosa dovevo fare? Sì. Se avessero trovato la pietra, avrebbero cambiato il corso della storia. Calma, calma. Ha preso il pugnale. Lo so. È andato alla torre. Devi fermarlo. Cerca, cerca di star fermo. Ah! Questo monastero cela la via segreta per Shambhala. Devi riprendere quel pugnale. Trova la via segreta e distruggi la pietra prima che cada nelle sue mani. Drake. Tu mi devi credere. Shaffer. Oh, Nate. Non possiamo lasciarlo. Che scelta abbiamo? L'hai sentito? Pensi che quello che ha detto sia la verità? Non lo so. Ma ci credeva. È abbastanza per me. Ok. È meglio dividerci. Cosa? No, ascolta. Io cerco di scovare l'entrata segreta. Tu invece vai alla torre e provi a riprendere quel pugnale. Certo, ok. Ma... tu occhi aperti e... resta in contatto radio. Sì, ok. Buona fortuna. Sì, ok. Ok. Ecco la torre. Ok. Ecco la torre. Ok. Forse ho visto qualcosa. Lo vedo! Ok. Ok. Ah. Ma cosa diavolo spanno? Tenete duro. Fuoco. Oddio. Oddio. Oh, chi èцийce! Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Zitto. Oddio, no, 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 no. Finalmente, la torre. Sono stanco dalle vostre scuse. Dammi dell'altro tempo, ti chiedo solo questo. Ti ho concesso tutto il tempo. Ti ho procurato il pugnale. Ora, dov'è la porta di Shabbala? Senti, Zoran, sappiamo che... Non sono arrivato fin qui per farmi ostacolare da un inetto. Sappiamo che la risposta è in questa stanza. Dobbiamo solo trovarla. Inoltre, Drake ti sta sempre attaccato alle costole. Ovviamente ho ingaggiato l'uomo sbagliato. Che idiota. Le... le sistemo io le cose con lui. Tu... rimani qui. Vedi cosa puoi fare. Ok. Pensa, Claude, pensa. Quello è roba mia. Nate. Vattene via. Dammi il pugnale. Saranno qui a momenti. Claude, non farmi usare la forza. Come faccio a spiegare dove è finito? Inventa qualcosa. Lo fai spesso. Però... Fammi solo un favore. Fai fuori quel figlio di puttana. Cosa sto cercando? Aspetta un attimo, mi sembra familiare. Allora... Fai... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va bene, adesso... Dove sono lì quando serve? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, quantomeno ho già visto questi simboli. Ok. 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 Stanno ascoltando! Stanno ascoltando! Stanno ascoltando! Stanno ascoltando! Stanno ascoltando! Ci servono di forzo! Battetelo! Forza! Forza! Eccola! Attenzione! Atezzone! Siamo arrivati! Eccola! Attacca! Granata! 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 E' proprio qui. Ci siamo. Wow. Lo sapevo. Aiutami a spingere. Ok. Mettici la schiena! Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Nate! Guarda, guarda. Proprio sotto il naso. Forza. Di qua. Forse qui c'è una via più rapida per scendere. Ben, almeno li tiene impegnati. Vedi quello? Indietro. Giù! Dove è stato un po' di spingere. Ma non è l'Italia. E' stato un po' di spingere. Ok. E' stato un po' di spingere. E' stato un po' di spingere. Giù! Assaggia qui! Lo vedo! Stanno respingendoli giù dal muro! È qui! Occhio! Occhio! Oh, no! Giù! Ok. Lo vedo! Sei mio, bastardo! In arrivo! Via di qui! Stanno respingendoli giù dal muro! No! Merda! Bene, grazie della corda, ragazzi. Spero che non ci sia nulla di spaventoso lassù. Perfetto, tutto tranquillo. Preso. Ci stiamo avvicinando, lo sento. Ci sono delle porte qua, se lo serve aiuto. Ok. Va bene. Vai. Di... ... No! No! ... choolher